In occasione dei 110 anni di storia, Cantina e Torrevento porta a casa riconoscimenti importanti per alcuni prodotti che sono stati anche rilanciati ai buyer in occasione dell'ultima edizione del Vinitali di Verona. Il Rosato, prima ronda, porta a casa la medaglia d'oro al concorso di Bruxelles nella sezione dei Rosati, un vino di successo che è frutto di un percorso volto a rispettare la terra. Una medaglia d'oro non è mai un caso, è un percorso, un percorso che si concretizza. Ricevere questo premio a Bruxelles, quindi una medaglia d'oro su un rosato, cosa significa per noi? Significa che le scelte fatte qualche ventennio fa, scelte di investire su dei vitini autoctoni, quale appunto il bombino nero, è stata una scelta vincente. È il connubio tra il territorio e il bombino che alla fine porta a questi risultati. Noi aziende cosa dobbiamo fare. Dobbiamo essere il meno invasibili possibile e lasciare che il creato, ciò che ci viene donato ogni anno dalla nostra terra, possa produrre i suoi frutti. Quest'anno il bombino nero è risultato uno dei migliori rosati in Europa, a Bruxelles. Bellissimo. Qui parliamo di uva, bombino nero, parliamo di nero di Troia, e una selezione anche di nero di Troia. Riconoscimenti anche per Ottagono, massima espressione del DOCG Castel del Monte, altro fiore all'occhiello di cantine Torrevento. Anche questo, quest'anno è un vino premiato, un vino che ha raggiunto un po' l'apice, se vogliamo, dei riconoscimenti delle giurie a livello nazionale e internazionale. Però vorrei ritornare all'inizio. È sempre un percorso che ha incominciato da qualche decennio, un percorso importante di valorizzazione dei nostri vitini autoctoni, il nero di Troia, il bombino nero. È un bel percorso che oggi sta dando dei risultati bellissimi alla nostra terra e con questi risultati Torrevento, qui al Vinitali, è protagonista del vino italiano. Torrevento conferma un trend in crescita nelle vendite non solo in Italia, ma soprattutto all'estero. Un mercato che per il 70% si sviluppa oltre i confini italiani. Il segreto sta nella capacità di saper raccontare al meglio i sapori dei vitini pugliesi. Cerchiamo di offrire con l'azienda Torrevento un pacchetto completo Puglia, quindi offrendo una filiera completa che va dalla zona nord Castel del Monte, quindi con tutti i vitini dalla nord Castel del Monte, quindi bombino bianco, bombino nero, nero di Troia, alla zona Valle d'Itria, quindi con la Verdeca e infine con il Primitivo e il Savio Salentino.